Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Dangerous, io sono Rob e oggi vediamo di fare una sorta di esame conclusivo di quella che è stata l'esperienza Gamescom e del perché avrei preferito di più usare i Silkepil sulle... Siamo arrivati a un punto in cui possiamo finalmente tirare, diciamo, le somme, no? Su quella che è stata l'esperienza Gamescom ed è il perché avrei preferito avere indietro i minuti spesi della mia vita, ok? Ma qui ho una piccola lista composta da quelli che sono i titoli che ho ritenuto interessanti, diciamo, l'ho divisi un attimino per settore e qui dove vedete che sto guardando in questa direzione qua invece ho il monitor con tutti gli altri trailer perché vorrei fare una sorta di recensione quasi da trailer e una singola parola per dirvi la mia, no? su quello che è l'aspetto di questa attività. Io comunque ho raggruppato questa lista, diciamo, dobbiamo parlare di questo riassunto in tre voci che è Next Gen, giochi interessanti e come hanno fatto ad arrivare fin qui e appunto spendere due parole in più magari per quelli che ho ritenuto interessanti. Comunque, questa Gamescom si è presentata sinceramente un po' come quando hai la pistola a scarica e inizia solo dopo il party praticamente quindi una sorta di canna fumante senza nessun colpo nel caricatore perché tutti i giochi interessanti sono stati presentati in precedenza sia per le console che per questa supposta console war che è per i titoli appunto... Io ci provo a lavorare, vorrei provarci a lavorare, a ricavare lo spazio nel tempo delle giornate quindi non devo fare altro, no? Però se Dio ha deciso di far suonare un antifurto da circa ormai 5 minuti e rompere il cazzo in modo veramente che manco, non lo so, manco l'ilva di Taranto grazie, grazie. Non so cosa ho fatto di sbagliato nella vita io però magari, magari mi piacerebbe avere un po' di tregua visto che un giorno ce n'è una Aaaaaaah! Non so quanti minuti siano passati ma non ricordo più nemmeno che cosa stavo facendo grazie antifurto, grazie, grazie. Cara Gamescom, che cosa mi hai combinato? Stavo probabilmente dicendo che tutto quello che riguardava i titoli interessanti sono stati presentati nei momenti prima cioè parlo di mesi, parlo di giorni, parlo di tempo e di presentazioni prima della Gamescom, quindi nella Gamescom abbiamo effettivamente nulla di interessante a parte questo comunque Andiamo avanti Stavamo quindi dicendo ovviamente ragazzi do per scontato quando non annuncio un titolo o se tralascio un titolo non è perché non ho visto la presenza di Crash Bandicoot o non ho visto la presenza di Arkham Knights è perché sono stati già presentati io parlo proprio della Gamescom Ecco, confido nel buon senso, sì? Allora, parliamo del fatto che qua vabbè, iniziamo con tutto quello che riguarda le presentazioni di Nintendo Switch Fall Guys New World e così via ma vediamo un po' allora io ho fatto una lista delle cose che mi hanno fatto dire wow ed è Ratchet & Clank fine il video potrebbe finire qua nel senso che Ratchet & Clank è l'unico proprio intendo l'unico l'unico titolo effettivamente Next Gen che è stato presentato a questa Gamescom questa sonicità mi fa suonare un'infinità di campane di allarme che si riconducono e si rifanno anche a quello che dicevo in passato e per cui molti mi dicono sempre eh ma non è così e cioè il fatto che uno di questa Next Gen non ne abbiamo assolutamente bisogno cioè PlayStation 5 Xbox ed X sarebbe dovuto arrivare fra due anni due che non esistono ancora titoli Next Gen e si ripete la manfrina del cross generation e delle remaster per spillare soldi ora più che mai e questa era una cosa che temevo basti vedere Black Ops ehm con questo tentativo di aumentare i prezzi a 80 euro a gioco che poi diventerà uno standard lo sappiamo che diventerà uno standard che inquieta tantissimo per ovvi motivi ma Ratchet & Clank si presenta come l'unico gioco effettivamente a Next Gen grazie anche alla sua componente estetica a ciò che accade su schermo e perché abbiamo finalmente quasi in maniera reale la possibilità di giocare praticamente un titolo Pixar cioè dal dettaglio allucinante anche nel nell'uso dell'RTX o comunque di tutto quello che riguarda le rifrazioni i tempi di caricamento proprio l'estetica del gioco incredibile è veramente veramente incredibile ma il fatto è che il tutto si ferma qui cioè dopo Ratchet & Clank non c'è nient'altro che mi abbia fatto dire wow in maniera proprio allucinante come è stato questo ma da qui passo ai titoli che ho ritenuto essere interessanti e intanto io scorro qua nella schermata appunto di di YouTube con tutti i trailer che ho messo da parte scartando ovviamente cose magari come Vader Immortal cioè la serie VR che comunque qua c'erano tante cose che sono state già presentate in passato io quello che qui ho notato è che davvero c'è una scarsità di cose nuove ma veramente nuove cioè presentate in modo che sia quasi un'esclusiva per quanto abbia cambiato il parere ad esempio in un gioco come Godfall che all'inizio vedevo una roba veramente una roba una sorta di anthem dove non puoi volare ora il titolo si è fatto lievemente più interessante aspetto di vedere qualche svolgimento qualche gameplay più corposo qualcosa di un attimino più profondo per giudicare Godfall perché potrebbe essere un'espensa interessante con gli amici tutto quello che vedo qua comunque a parte tutte le espansioni le novità di Fortnite perché in effetti non è che ci sia tantissimo qua abbiamo ad esempio un estratto del gameplay di Scarlet Nexus che venne presentato Scarlet Nexus se non sbaglio quel gioco dove ci sono i nemici che sono dei vasi di fiori l'unico che ho trovato un po' intrigante è stato Quantum Error per questa sorta di mashup tra il classico gioco horror dove devi scappare dal nemico e anche il mondo FPS cazzuto con armi quello che utilizza la gatling gun illuminazioni forse è qualcosa di interessante per quanto dall'altra parte in Quantum Error però ho paura che ci sia la classica situazione da indie cioè che è tolto quello è tutto un po' nemici con animazioni grossolane e robe di questo tipo Unknown 9 non lo so perché non abbiamo visto niente a parte una canzone degli Hidden Citizens che è molto carina e sto scartando sì World of Warcraft Afterlives eccetera Dome Eterna con l'espansione abbiamo Stavo Squadrons già visto niente di che Star Wars Journey to Batuu con The Sims 4 raga Mafia Definitive Edition assolutamente un occhio sulla questione perché è un remaster davvero davvero coraggioso davvero serio ecco il primo gioco che ho ritenuto interessante per me perché sapete quanto sono fissato con i giochi e con la fisica ma questa ne abbiamo parlato anche tempo fa Teardown di Daniel Gustafsson che è un gioco creato su motori voxel dove è possibile distruggere qualsiasi cosa seguito dalla fisica e il giochino per ora è molto semplice è un indie sviluppato da una o poche più persone sul contratto sfrutta il concetto del crearsi una strada distruggendo tutto quello che abbiamo davanti per poter fare una sorta di colpo e anche altre modalità un altro gioco che ho ritenuto interessante Wasteland 3 che stanno veramente facendo un ottimo lavoro i creatori da quando è nata la serie Wasteland e quanto pare il 3 è una figata vera non vedo l'ora di giocarci è Little Nightmares 2 è uno dei giochi interessanti next gen chiamiamolo così passatemi il termine che mi ha fatto davvero dire wow si sono davvero impegnati i creatori di Little Nightmares già avevano mostrato la loro capacità di creare un mondo platform incredibile cioè nuovo veramente spaventoso e con il 2 dal trailer vediamo che il gioco è proprio quasi un'altra cosa ma sono davvero curioso di vedere in che direzione andremo andando avanti a parte vai 12 minutes non mi ha intrigato per quanto ci sia un bel cast Aragami 2 sembra sfruttare un po' Tenchu e farlo riportarlo in vita non saprei non lo so non sono rimasto attratto non sono rimasto Solasta che mi sembra un RPG estremamente acerbo che però ovviamente cavalca in maniera super preponderante alle meccaniche di D&D ma è molto acerbo per potermi soffermare non lo so Marvel's Avengers probabilmente fallirà una settimana dopo l'uscita a parte quelli che ci giocheranno e diranno di aver speso bene i propri soldi non voglio proprio parlarne me Bell Break uscirà finalmente dalla beta infinita e avremo un battle royale a tema magico con anche un bello stile visivo sono curioso di vedere come va ho installato tempo fa la demo la beta un paio di volte ma non l'ho mai giocato non so perché c'è qualcosa che non uno dei pochi giochi che veramente mi ha intrigato in questa presentazione ma che seguo ormai da anni da quando è? dal 2016 Dual Universe che forse riusciremo a vedere finalmente un Minecraft uso a Space Engineers ma che funziona davvero perché a quanto pare c'è una community già molto 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 forte e Dual Universe mi intriga davvero tanto per chi non conoscesse cose del Universe prendete Space Engineers quindi la possibilità di viaggiare tra i pianeti con le astronavi prendete Minecraft per poter costruire città intere ecco e avete Dual Universe ma a quanto pare i mondi sono persistenti e tutti quanti collaboreranno per creare le civiltà all'interno di un unico giga cell chissà in Jump Force hanno aggiunto addirittura Merwe grande Hunter Hunter Giant Surprising fa parte invece di quella lista che io ho considerato intitolata come hanno fatto ad arrivare qui Goldilocks 1 che cazzo è Goldilocks 1 ma l'avete visto il trailer di Goldilocks 1 ma io mi dico ma come cacchio fate a presentare una roba del genere è terrificante e sembra uno di quelle di quei giochi che li fa prendete fatti da uno sviluppatore russo da solo su Unity che poi vendono su Steam tipo a 30 euro ma che cazzo gli ha detto il cervello alla Gamescom di accettare questa roba questo trailer e andando avanti da qui diciamo per riprendermi da quello che era Goldilocks 1 sono andato avanti ho visto le Dark Pictures che non mi ha intrigato per niente sono andato ancora avanti ho detto dai ti prego qualcosa di carino ed è arrivato Lonely Mountains Downhill official Elgiv 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 e devo dire che mi sembrano di quei giochi rilassanti carini dove appunto dovrei fare un bicicletta al downhill quindi scendere ma lo so mi ispira mi dà fiducia mi dà tranquillità nella Definitive Edition di Age of Empyre 3 vabbè ha rotto il cazzo cioè Stronghold che torna finalmente ma vabbè non sono riuscito a soffermarmi e in tutto questo Crash Bandicoot 4 ma già avevamo visto l'annuncio dei gameplay quindi Crash Bandicoot credo sia una garanzia nemmeno da soffermarci troppo sopra ci sono cose che a mio avviso meritano un attimino un po' più di attenzione ma più che altro per la loro presenza all'interno di questa fiera e che non godono dello stesso impatto della stessa efficacia che può avere una casa AAA Kingdoms of Amma lo rirei con Ingraga anche no cioè basta anche questo fa parte a mio avviso della lista di come l'ho fatto ad arrivare qui perché non abbiamo più bisogno di queste remaster antichissime fatte oggi siamo nel 2020 fai qualcosa di nuovo per quanto io non abbia fiducia in New World ammetto che vedendo i gameplay e avendo fatto questa sorta di open beta di open beta di closet beta mi sto ricredendo e forse riusciremo ad avere finalmente un gioco un MMO con delle vibes alla World of Warcraft dopo così tanti anni finché non uscirà Ashes of Creation credo però stiamo a vedere in tutto questo andando avanti ho detto sti che guardavo qualche trailer eccetera cerchavo di appassionarmi dirti 5 oh mio dio un quinto capitolo Project Wingman è arrivato Prodeus che vi ricordate Prodeus su questo canale io ve ne ho parlato già in un video proprio dedicato dove analizzavamo questa sorta di Doom Ally che in prima persona con questa sorta di mashup tra 2D e 3D la possibilità anche di modificare in tempo reale quello che vediamo su schermo con un potente editor di livelli che garantirà agli utenti di creare dei bei livelli giocabili anche senza tanta esperienza un altro gioco che io penso meriterebbe la denuncia non capisco come fa a stare qui e vince un altro premio anche lui come hanno fatto ad arrivare qui è Just Die Already che va bene le prese per il culo di Death Stranding va bene la prese per il culo di Cyberpunk però raga c'è un limite alla decenza cioè no non puoi presentare un gioco in queste condizioni vi prego oh mio Dio no è proprio no non è nemmeno dire God Simulator capito sono passati quanto 4 anni basta basta Hello Neighbor 2 nope passiamo avanti eccolo qua un altro che ha vinto il premio per come hanno fatto ad arrivare qui è un po' come quando mamma voglio Sea of Thieves e la madre risponde abbiamo Sea of Thieves a casa e vi presentano Blazing Sails Pirate Battle Royale che non è altro che Sea of Thieves ma Battle Royale cioè io non capisco come non si sono beccati una denuncia ma anche questo gioco è terrificante io non capisco come si è arrivato ad essere presentato qui nella conferenza appunto di Gamescom che a quanto pare soprattutto quest'anno il 2020 in un periodo di pandemia è stata forse una delle conferenze più importanti in assoluto in abito di presentazione di videogiochi escluse quelle delle console proprietarie andando avanti nota di merito a Remodered Broken Porcelain che ricordiamo Remodered è un gioco fatto da un team italiano quindi GG Italia e l'altro gioco che finalmente mi ha fatto tirare un suo spirito di sollievo è la presentazione di Iron Harvest la presentazione ufficiale ricordiamo che è un gioco nato su Kickstarter anni e anni fa finalmente vede la luce Iron Harvest è un RTS classico un po' alla Giovan Empire eccetera dove ci sono comunque un misto da prima seconda guerra mondiale con mezzi a vapore quindi questi mecha giganti questa sorta di unità sembra molto bello andate a recuperarvelo perché Iron Harvest secondo me può regalare molte molte emozioni soprattutto in un panorama RTS che ormai è estremamente scarno Paradise Lost mi ha fatto un pochino sollevare il sopracciglio ma non abbiamo visto niente eccetto quest'intro con il filmato in cui vediamo non sbaglio soldati della seconda guerra mondiale vediamo tedeschi e alleati che stanno in questo momento sospeso e poi abbiamo la stessa location tipo non so quanti centinaia di anni dopo presentata nuovamente quindi Paradise Lost mi ricorda un po' come Lost Planet queste cose qua ma non lo so non so proprio di cosa si tratta purtroppo andando avanti le mie speranze sono un pochino esaurite se un gioco come Handling mi ha un attimino fatto pensare a un gioco in cui potrei piangere tanto dove interpretiamo una volpe che combatte il cambiamento climatico e l'inquinamento abbiamo Drift Breaker che si è presentato già anni fa in una sorta di gioco isometrico molto molto cazzuto dove sei questo meca che deve distruggere i pianeti dando fuoco agli alieni eccetera abbiamo la ripresentazione ennesima di Ghostrunner che ovviamente cavalca un po' l'onda di Cyberpunk che si presenta come un gioco molto carino che strizza l'occhio a Mirror's Edge dove dobbiamo correre saltare fare parkour e fare effetti ai nostri temici in un ambiente cyberpunk e comunque portandoci avanti Iceborne di Monster Hunter World il remake di Observer System Redux che è interessante per coloro che non hanno giocato Observer abbiamo un sacco di incrementi estetici i primi 17 minuti di Windbound che sembra carino però in fondo questa è la mia lista di giochi interessanti abbiamo dopo la recente anche l'enco ovviamente che è l'unico titolo next gen a mio avviso abbiamo Quantum Error Ghostrunner che è stato presentato Handling The Rift Breaker Paradise Lost Iron Harvest Produce Lonely Mountains Downhill Wasteland 3 e Tear Down invece tra i tre giochi che come diavolo hanno fatto ad arrivare qui abbiamo Blazing Sails Kingdoms of Amalur e Goldilocks 1 quindi shame on you per il resto ragazzi aspetto i vostri pareri e ditemi quali giochi vi hanno entregato di questa games ma io avrei fatto molto volentieri a meno ah che dire speriamo bene nelle prossime presentazioni delle console anche se non ho assolutamente figli grazie ancora per essere stati qui con me io come al solito vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanella se ancora non l'avete fatto e se volete supportarmi direttamente ragazzi un like a questo video condivisione commento oppure il link qui nella descrizione grazie ancora del vostro tempo e noi ci vediamo sul campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti